Continua e incessante e distancabile l'azione di contrasto alla paventata ipotesi di realizzazione del parco eolico offshore. Ieri è stata depositata verso la Commissione dell'Unione Europea un'interrogazione richiesta da Maria Ferrera e da Giovanni Giudice del Comitato Nopeos di Gela e condivisa dall'europarlamentare Ignazio Corrao che mira a conoscere le risultanze emerse dall'eventuale chiusura delle indagini della EU Pilot da essa stessa avviata. Qualora, dice il Comitato, l'indagine fosse ancora in corso, si vuole conoscere lo stato dell'arte e se l'autorizzazione per la realizzazione della centrale eolico offshore nel Golfo di Gela è provvista delle relative autorizzazioni della direttiva Habitat. Noi, continuano a ferrare a Iudice, sappiamo che è provvista ma è per evidenziare che è del tutto inattendibile. Questa mattina, inoltre, è stata presentata in formato digitale una petizione come da suggerimento del Presidente della Commissione Agricoltura ed Ambiente, Giovanni Ravia, per sollecitare ulteriori iniziative da parte dell'Unione Europea, oltre alla EU Pilot già avviata, che è l'anticamera della messa in infrazione per avere disatteso la direttiva Habitat e della quale si aspettano a giorni le risultanze delle indagini avviate dalla stessa Commissione. La petizione è stata avviata in rappresentanza del coordinamento NOPEOS che è costituito dai comuni di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento, dall'ex provincia di Calzani 7 e Agrigento e dai comitati NOPEOS di Gela, Butera e Licata. Intanto, a fine mese, la consulta è stata chiamata a dirimere il conflitto di competenze esorto tra il Tar del Lazio e il Tar Sicilia, su cui è chiamato ad entrare nel merito del ricorso avanzato dal coordinamento. Mentre tutto ciò avviene, chiude la nota, ci avviciniamo a grandi passi verso i tre anni della concessione dell'autorizzazione finale che costringerebbe la proponente a riniziare l'iter per riavere la via, la valutazione di impatto ambientale che in questo modo verrebbe persa.